Ben trovati con Filcan News. Partiamo con il karate. Nel weekend al Centro Olimpico federale di Ostia si sono svolte le finali del campionato italiano esordienti A di karate. Oltre 500 gli atleti che hanno calcato i 5 tatami offrendo uno spettacolo emozionante nelle gare di kumite e kata. Alla fine della due giorni Shirai Club San Valentino e Fiamme Oro Roma sono state le società prime classificate per kumite e kata maschile. Rari Nantes Albano e Centro Attività Motoria Donofrio per kumite e kata femminile. Passiamo alla lotta. Rovereto ha ospitato la fase finale della Coppa Italia di Greco-Romana. A comandare la classifica per società le fiamme oro davanti a Custorino, Atletico Faenza e i padroni di casa dell'Hotta Club Rovereto. Chiudiamo con il judo. La Chiyama VII Torinese si è giudicato la prova bergamasca del trofeo Italia esordienti B con il primo posto nella classifica generale delle società. I tabelloni di gara e le classifiche complete sono disponibili nella sezione gare risultati del sito federale. Ancora per il judo abbiamo intercettato al centro olimpico di Ostia Christian Parlati, bronzo europeo e mondiale classe juniores. Stavo in forma. Dopo l'europeo ho provato a riconfermarmi e per fortuna ci sono riuscito anche se c'è un po' di rammarico perché comunque riguardando per esempio la semifinale al mondiale potevo vincerla. Era un atleta che comunque avevo già battuto. Però sono contento così, sono contento e spero di continuare così. Devo lavorare su tante cose, forse sulla concentrazione, sulla semifinale, non lo so. Devo continuare a lavorare, devo continuare ad allenarmi forte per migliorare. L'anno prossimo sono ancora junior e spero di portare l'oro questa volta. Ed ora i prossimi appuntamenti. Per il judo Podgoriza ospiterà l'Europeo Under 23. Per la lotta doppio appuntamento al Palapellicone di Ostia. Sabato il Gran Premio Giovanissimi di Stile Libero e Femminile, mentre domenica si gareggerà nel Trofeo delle Regioni. Per oggi è tutto, l'appuntamento con Filca News e alla prossima settimana. Grazie a tutti.